Accanto a me Gabriella Barbera, candidata al Consiglio Comunale con il sindaco Gianvito Greco. Questa sera è l'ultima serata, una serata di festa. Un messaggio da lanciare ai concittadini campobellesi? Un messaggio. Ci siamo, siamo alla fine, stringiamo i denti, mettiamocela tutta. Una campagna elettorale fisicamente pesante da affrontare, oltre che mentalmente, ma siamo felici di essere qua, siamo felici di votare il nostro sindaco Gianvito Greco. Quindi in bocca al lupo a tutti, in bocca al lupo in modo particolare a noi, candidati consiglieri, in bocca al lupo a Gianvito Greco. Qual è la lista con cui sei candidata? Allora, io sono candidata nella lista Campobello Benecomune, assieme ad altre che abbraccio nel progetto di Gianvito Greco. E siamo qui tutti per lui, non vediamo l'ora di iniziare a lavorare con il nostro sindaco. E questa sera è una serata meravigliosa, fantastica, di gioia, di allegria, di forti emozioni. E siamo pronti a viverla al 100%.